Anche Ariano che seguirà direttamente poi la competitura e ci darà informazioni direttamente dalla testa della corsa. Anche Ariano che è la mia politica, la mia politica, la mia politica, la mia politica, l'arrivo qui davanti, vediamo i giudici che stanno per prendere il numero dell'ultimo economico. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Vieni, 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 qui, 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 vieni qui, vieni là, là, vieni, vieni, qui. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.